per fare mindfulness possiamo seguire tre passaggi essere presenti, aprirsi e ritornare e farlo ciclicamente quindi ti guiderò in una breve pratica per imparare a fare questi tre passaggi in modo che tu poi possa anche farlo senza la pratica guidata quando sei nella tua quotidianità in qualsiasi momento ti chiedo quindi intanto di portare la tua attenzione al tuo corpo in questo momento mentre cerchi una posizione che sia per te comoda ma anche allo stesso tempo che ti consenta di essere vigile e attento e seguire quello che ti proporrò ti connetti con il tuo corpo, con il tuo respiro e porti intenzionalmente l'attenzione sull'esperienza che stai vivendo qui e ora con una doppia qualità di concentrazione e flessibilità cioè apertura a tutto quello che si presenta puoi farlo coinvolgendo tutti i tuoi sensi se non hai ancora chiuso gli occhi va benissimo partire dalla vista quindi porta l'attenzione su quello che puoi vedere in questo momento dalla posizione in cui ti trovi e tutto quello che puoi sentire in questo momento se vuoi puoi chiudere gli occhi e ascoltare tutto quello che arriva alle tue orecchie qui e ora anche tutto quello che puoi sentire col naso quello che puoi usare eventuali odori o anche assenza di essi quello anche che puoi sentire col tatto e può essere il contatto dei vestiti con la pelle o anche con la sedia il tuo corpo e il pavimento qualsiasi sensazione anche l'aria sulla pelle non coperta dai vestiti e portare l'attenzione in questo modo sulla tua esperienza nel qui e ora con uno o con tutti i cinque sensi se vuoi anche il gusto quando mangi è un modo per gettare l'ancora e centrarti quindi se adesso sei presente in questo momento ti chiedo di aprirti cioè di coltivare un atteggiamento di curiosità e ricettività spassionata facendo spazio a qualsiasi cosa emerga nella tua esperienza permettendole di andare e venire liberamente senza attaccarti ai pensieri senza evitare le sensazioni o le emozioni ma sii disponibile a qualsiasi cosa emerga per te in questo momento sensazioni, emozioni, pensieri sentieri tutto quello che c'è sei presente e ti apri ad accogliere tutto quello che emerge e mentre cerchi di essere presente a tutto quello che accade nel qui e ora facilmente la tua attenzione potrà essere distratta distratta potrà vagare e quindi ti chiedo di ritornare cioè riportare delicatamente la tua attenzione al qui e ora ogni volta che vaga e lo puoi fare notando e nominando in modo non giudicante dove è andata la tua attenzione cos'è che ti ha agganciato per esempio c'è un pensiero oppure c'è questa sensazione noto che ho pensato a questo noto che sto giudicando noto questa sensazione nel corpo noto il prurito e se la tua mente viene agganciata cento volte sono cento opportunità per praticare la consapevolezza perché la consapevolezza è un muscolo che beneficia di un esercizio regolare quindi ogni volta che ti distrai è un'occasione per allenarti sempre di più quindi ora ti ripropongo lo stesso ciclo di questi passaggi per allenarti ti guido ancora un po' quindi porta intenzionalmente l'attenzione sull'esperienza del qui e ora con concentrazione e flessibilità coinvolgendo i tuoi sensi scegli tu se uno o più di uno fra vista, udito olfatto, tatto come modo per gettare l'ancora e centrarti sii presente con delicatezza ora passi al secondo passaggio apriti coltivando un atteggiamento di curiosità e ricettività facendo spazio a qualunque cosa sorga nella tua esperienza e permettile di andare e venire liberamente senza attaccarti ai pensieri per esempio o senza cercare di non sentire o evitare emozioni e sensazioni ma accogli tutto quello che si presenta e ogni volta che ti distrai ritorna riporta delicatamente senti la tua attenzione al qui e ora ogni volta che vaga notando e nominando ciò che ti ha agganciato quindi ora di nuovo ti chiedo di provare a fare questi passaggi quindi sii presente con tutti i tuoi sensi e apriti a qualsiasi esperienza interna sorga come pensieri sensazioni emozioni cercando di essere disponibile a tutto quello che emerge e ritorna al qui e ora ogni volta che ti distrai distrai ecco questi sono i tre passaggi per fare mindfulness in qualsiasi momento e condizione quindi sii presente con cinque sensi apriti a tutto quello che emerge pensieri sensazioni emozioni e ritorna a riportare la tua attenzione al qui e ora ogni volta e questo è un esercizio che puoi fare sempre all'inizio magari in maniera guidata ma già adesso forse hai imparato questi passaggi e puoi farlo in qualsiasi momento della tua giornata ricordati davvero che la consapevolezza è un muscolo e quindi come tutti i muscoli beneficia di un esercizio regolare anche se breve anche tre minuti ogni tanto durante la tua giornata ma tutti i giorni ti aiuterà tantissimo ora puoi riprendere delicatamente a fare quello che stavi facendo prima con questa attitudine di presenza apertura grazie per aver praticato colmindfulact.it per aver guardato per aver guardato la tua giornata per aver guardato per aver guardato la tua giornata per aver guardato per aver guardato